Sentiamo invece delle novità tramite il disco producer Mi è arrivata questa cartolina digitale, niente male Quindi ho subito convocato, tac, gli artisti che appunto hanno realizzato questa release Che vuoi? No, dico, nella cartolina cosa c'era scritto? Ti salutavano da qualche parte? C'era il francobolo della Way2Play Records Appunto, che mi presentava Attilson & Aldo Bilt featuring Nikasol con Boom 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 Ci sei Attilio? Hola Robby! Hola hola hola, benvenuto, anzi bentornato anche tu sulle frequenze di Radio Manamana e di Super DJ Che dici di bello? Infatti ho fatto un nuovo disco solo per tornare da te Ah beh, grazie, grazie Allora a questo punto insomma Come sei falso, fatelo dire, come sei falsissimo Andiamo bene Perché? Scusa, che vorresti dire? Sì, io produco per andare su Radio Manamana Grazie Grande, grande E allora, spiegaci com'è nato questa Boom 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 Molto latineggiante, eh? Devo dire la verità, l'ho ascoltata Ma l'ha bevuto una tequila Tequila Boom 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 è il follow up di Lop Che quest'estate è andato molto bene Raggiungendo un milione di visualizzazioni su Youtube Ballato un po' in tutte le spiagge di Italia E quindi abbiamo voluto fare questo follow up Però mischiando un po' le carte Cioè mettendo un vocale, questa volta in inglese, femminile Che più ha, dare un privilegio al flauto Quindi lì è la fisarmonica che accompagna E niente, quindi è nata così Boom 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 Con il cantato di Nika Soul questa volta Nika Soul, come è arrivata a collaborare con voi? Eh niente, serviva questa cantante La casa discografica ci ha suggerito Nika Soul Io già la conoscevo come artista Ed è nata la collaborazione Poi abbiamo girato il video insieme Che stiamo peraltro vedendo Che pubblicheremo adesso sulla bacheca Super DJ Man Proprio per far sì che i nostri ascoltatori Lo possano vedere, ammirare È giusto, eh? È quello che sto facendo io Tu stai vedendo Nika Soul, stai vedendo Francesco Continua l'intervista Tu non sai se c'è un insiuccio? Vabbè, io sto facendo a livello lavorativo Lo sto visionando Non date retta alla voce del nord Sapete che lui mira sempre alla conquista Ovunque vede una topa Deve per forza arrivare Allora Esatto È stato difficile a girare il video Cioè Il mondo è Nika Soul che è già molto Molto a parere Cioè molto Apparisce Vabbè dai, fai la domanda Io già ho capito dove vuole andare a parare Francesco Allora Attilio Nika Soul è fidanzata con qualcuno di voi No, 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 no È single? No, è single Ah, ecco È andato La domanda successiva Il video è di Latina Il video l'abbiamo girato vicino a Roma Quindi Perfetto Perfetto Allora Prostima volta la inviteremo Proprio qui studio Così almeno cercheremo di vedere Se la seduzione Di appunto Della voce del nord Arriverà Insomma Hai conquistato però Però vedi che non sono contento solo io Mi è stato anche inserito La regia Proprio l'entusiasta Non è una cosa Allora We2Play Records Ci presenta Boom 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 Attilson e Aldo Beat Grazie a Tidio di essere stato con noi Sì Ci vediamo al prossimo Al prossimo disco in giù Ma che uscirà Questa del corso Assolutamente sì Un boccalupo per tutto E vai con Super DJ E alziamo il volume Grazie a Tidio Boom 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti